Buongiorno Presidente, buongiorno Presidente. Non sa l'onore e l'emozione che ci sta dando in questo momento. Onori al Presidente della Repubblica. Non sa l'onore e l'emozione che ci sta dando in questo momento. Sono le risorse previste in cinque decreti emanati dall'assessore regionale alle autonomie locali, Andrea Missina, destinati ai piani di riequilibrio finanziario degli enti locali. Una misura che in questo modo dà attuazione alla legge regionale 25 del 2024. Si tratta di interventi in favore dei comuni siciliani in condizione di sofferenza, in procedura di riequilibrio o di dissesto. Evidenzia l'assessore Missina, che per la prima volta sono stati adottati dalla regione. Con la legge approvata lo scorso agosto abbiamo voluto aiutare gli enti locali che, a causa dell'evidente difficoltà economica, rischiano di compromettere le loro attività e, quindi, la stabilità sociale. Con i contributi puntiamo a favorire la fuoriuscita dal dissesto, garantendo contemporaneamente l'erogazione di servizi essenziali e la gestione delle attività di ordinaria amministrazione. In particolare, un primo provvedimento di 12,5 milioni di euro è destinato a 56 comuni, con popolazione fino a 25.000 abitanti, in dissesto finanziario alla data del 30 settembre 2024 e a quelli che hanno chiuso il dissesto successivamente al 31 dicembre 2022. I carabinieri del nucleo radiomobile di Paternò hanno denunciato un 56enne paternese per guida in stato di ebbrezza. Intorno alle 22, durante il servizio di pattugliamento l'equipaggio ha visto che un uomo cercava di accedere a un passo carrabile chiedendo al conducente di una Fiat.di spostarsi, ottenendo però risposte aggressive, avvicinatisi per chiarire la situazione. L'uomo, un 56enne del posto mostrava chiari segni di alterazione, ed emanava un forte odore vinoso. Inoltre i carabinieri hanno subito notato che all'interno dell'auto c'era una bottiglia di vino da due litri ancora piena e un'altra, invece, quasi vuota appoggiata sull'asfalto accanto alla portiera. Dopo aver valutato la situazione, i carabinieri hanno fatto scendere l'uomo dal mezzo, e lo hanno sottoposto al test alcoolemico. Il controllo, ha fornito un valore di 3,31 grammi su litro che significa che, per ogni litro di sangue del conducente, sono presenti 3,31 grammi di alcol. Questo è un livello estremamente elevato e indica una condizione di forte intossicazione, con gravi rischi per la capacità di giudizio, riflessi e coordinazione, rendendo la guida pericolosa e fuori dai limiti consentiti dalla legge. Di fronte a tali riscontri, il 56enne è stato denunciato a piede libero alla procura. La patente è stata immediatamente ritirata per l'invio alla prefettura competente, mentre il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo ai fini della confisca. I militari della stazione di piedi Monte Etneo, dislocati lungo la via Notara, all'incrocio con Vianoci, hanno controllato un 46enne residente a Mascali che, a bordo della sua Fiat Panda, stava percorrendo quella via in direzione mare. Quando i carabinieri lo hanno fermato, hanno subito scorto due bastoni appoggiati sui sedili posteriori. Quindi, oltre a chiedergli i documenti di circolazione, hanno proceduto ad una perquisizione della sua auto. Dalla parte posteriore dell'abitacolo, i militari hanno estratto un bastone in legno lungo 130 cm, sul quale era stata montata una punta in ferro da 10 cm, e un bastone da 70 cm con la punta, sempre di ferro, lunga ben 30 cm. L'uomo ha tentato di giustificarsi raccontando che quegli arnesi gli servivano per andare a cercare funghi nei boschi. Ma questa versione dei fatti non è servita ad evitargli una denuncia all'autorità giudiziaria perché la legge sul porto d'armi o d'oggetti atti ad offendere non considera soltanto le classiche armi, da fuoco, ma anche le cosiddette armi bianche, come gli oggetti muniti di lama accuminata e, in generale, tutte le varie armi improprie. Un'operazione di controllo del territorio, condotta dalla Polizia di Stato, ha portato all'individuazione e alla sanzione di 35 automobilisti che avevano parcheggiato i propri veicoli nelle corsie riservate ai mezzi di soccorso. Tale comportamento, oltre a violare il codice della strada, ha gravemente compromesso la rapidità di intervento delle ambulanze dirette al pronto soccorso del Policlinico. Il 25 novembre 2024, presso la sede del reparto operativo Tutela del Patrimonio Culturale di Roma, i carabinieri hanno consegnato cinque reperti in argento all'Istituto Centrale del Restauro del Ministero della Cultura per un intervento urgente di conservazione. I manufatti, di epoca ellenistica, erano stati sequestrati al termine di un'indagine di reperti archeologici provenienti da scavi clandestini in Sicilia, in particolare dall'area di Morgantina, nel territorio di Audone, Enna, nota per essere oggetto di scavi illeciti. Morgantina è già al centro di diverse vicende legate al recupero di importanti opere trafugate. Tra i casi celebri, il ritorno in Italia della Venere di Morgantina, esposta fino al 2011 al Getty Museum di Los Angeles, e il recupero degli acroliti e del tesoro di Morgantina, esposti rispettivamente al Metropolitan Museum di New York e al Paul Getty Museum. Tali manufatti, sottratti dai tombaroli, erano stati immessi nel mercato nero dell'arte e venduti a collezionisti e musei stranieri. Tra le opere ritrovate, figura anche la scultura in terracotta di Ade, soprannominata Barbablo. Durante le indagini, i carabinieri hanno fermato un individuo che trasportava un borsone contenente i reperti. L'uomo ha dichiarato che gli argenti erano stati nascosti dal padre, che sul letto di morte aveva rivelato il loro nascondiglio. Le successive attività investigative hanno portato all'individuazione del terreno da cui i reperti erano stati prelevati, situato nei pressi del parco archeologico di Morgantina, vicino alla cosiddetta casa di Ganimede. Le indagini hanno ricostruito il traffico di questi manufatti, risalenti al III secolo anno corrente, partendo dagli anni Ottanta, quando alcuni degli argenti furono acquisiti dal Metropolitan Museum. Negli anni Novanta, le investigazioni permisero di collegare il traffico ai tombaroli e ai ricettatori svizzeri tramite un antiquario libanese. Gli studi archeologici, condotti anche dal professore Malcolm Bow dell'Università della Virginia, hanno confermato la provenienza dei reperti dalla casa di Eupolemo, parte dell'antico insediamento di Morgantina. Il reparto volo dei vigili del fuoco di Catania ha compiuto un'operazione di trasporto della strumentazione degli NGV con l'elicottero Drago 165, nella centrale di monitoraggio che si trova sull'Etna a 3400 metri di altitudine. Le operazioni sono iniziate nelle prime ore della giornata con il decollo dal reparto volo di Catania. Il supporto logistico è stato garantito anche grazie a un aviorifornitore e al personale del reparto volo dei vigili del fuoco di Salerno, operativi presso la piazzola del Rifugio Sapienza. Le previsioni meteo in Sicilia per venerdì 29 novembre di Globus Television. Venerdì, pressione in diminuzione. Giornata caratterizzata da generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. In tarda serata peggioramento sulle coste settentrionali con rovesci temporaleschi. Temperature massime fino a 22 gradi, minime stabili. In tarda serata peggioramento sulle coste settentrionali con rovesci temporali.